Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate, martedì 7 dicembre 2021. La moglie di Alphonse decide di pubblicizzare la sua offerta senza esitazione e ottiene le prime prenotazioni. Shirin e Max fanno una scommessa, Vince che riuscirà a raggiungere 10.000 follower con il proprio blog. I due stanno pianificando un nuovo video. Quando a entrambi manca un solo seguace per raggiungere l'obiettivo preposto, studiano un piano formidabile. Florian si accorge con orrore di aver ferito quasi a morte il fratello. Eric è privo di sensi, a terra e il guardaboschi è costretto a chiamare una tombulanza. In ospedale i dottori svelano al giovane Vogt che Eric è grave, ha delle lesioni interne importanti. Florian è disperato e spera che il consanguigno si riprenda più presto. Vanessa è frustrata perché sta facendo pochi progressi in riabilitazione. Max le regala l'autobiografia dello schermitore di successo G. Fritch. Grazie a tutti.